Eccoci qua cari telespettatori, come sempre la nostra parte è dedicata allo SPCGL, cioè dedicata ai pensionati e alle persone anziane, ma soprattutto al sollecitare tutti quanti, coloro che sono in pensione, a farsi fare un piccolo controllino della pensione. Ci sono continuamente casi che vengono colti in flagranza, nel senso che ci sono degli amanchi importanti nella pensione, possono cambiare la qualità della vita dei pensionati, assolutamente sì. Per parlare di questo, con noi in studio, quest'oggi Pier Giorgio Carrè, responsabile della Previdenza dello SPCGL metropolitano di Venezia. Buonasera anche, grazie di essere qui con noi. Allora, io direi, prima di incominciare a entrare nel merito, perché conosciamo benissimo questi benedetti diritti inespressi, vediamo l'intervista che è stata scelta presso la sede veneziana, dello SPCGL, ce ne sono tantissime in realtà. Abbiamo presa una, però purtroppo, per fortuna sono tanti casi, no? Sono tantissimi casi, purtroppo, sì, sì, tantissimi, più di quanto pensavamo anche noi. Ma più scaviamo e più vediamo che ci sono errori, problemi e diritti appunto negati ai pensieri. Negati e non espressi, bisogna chiedere tutto, vediamo l'intervista. Allora, signor Gianfranco è venuto allo SPI e voleva farsi controllare la pensione, poi cosa è successo? Ci racconti tutto. Allora, due anni fa sono venuto qui, sono venuto qui allo SPI perché sapevo che c'era questa campagna di diritti inespressi per farmi controllare la pensione. Fatto questo, è stato verificato che praticamente io ho una pensione commerciante, VO.com, e vista la vecchiaia potevo trasformarla in una VO semplice. Mi è stato consigliato questo, abbiamo fatto una verifica e nella verifica sono venuti fuori che praticamente un aumento della pensione di circa 190 euro, compreso un aumento anche degli assegni familiari, perché questo ha comportato anche una trasformazione per gli assegni familiari e mi hanno dato gli arretrati dal momento in cui avevo fatto i 67 anni, cioè vuol dire che circa 5 anni con un arretrato di 13.000 euro. Quindi insomma, un bel risultato e se l'aspettava, cosa ha fatto con questi soldi in più? Non me l'aspettavo e avendo una pensione abbastanza molto, come si può dire, tranquillamente non una pensione eccessiva, questi soldi mi serviranno anche per fare qualcosa a Natale, perché siamo sotto le feste e qualche regalino senz'altro uscirà con questi soldi. Allora, la grande generosità, però la cosa interessante della situazione di Gianfranco è questa, una pensione da commercio, cosa voleva dire? Ha detto WOCOM e si è trasformata in WOCOM. Lui aveva una pensione che per raggiungere i 35 anni, quando è andato con una pensione di anzianità, aveva fatto 3 anni di contributi da commerciante, lavorava nel settore commercio. Allora, per poter andare in pensione ha messo tutto assieme, quindi gli anni, 33 anni di lavoratore dipendente, più 3 anni, 36 anni è andato in pensione. Qual è il problema? Che quella pensione è stata calcolata con il criterio del settore del commercio, quindi la pensione è venuta più bassa rispetto a quella del lavoratore dipendente. Ma perché c'è un versamento contributivo più basso? Ci sono altri criteri nella valutazione. Raggiunta l'età di vecchiaia, quindi adesso ha 67 anni, si può chiedere il ricalcolo della pensione utilizzando solo i contributi di lavoratore dipendente e questo abbiamo fatto nel suo caso. Tenete conto che sono moltissimi che hanno questa condizione, che durante la loro vita... Cioè hanno cambiato attività lavorativa. L'attività lavorativa, hanno versato magari 5 anni, 6 anni, 3 anni, 2 anni da artigiano, da commerciante e poi hanno fatto il lavoratore dipendente oppure viceversa ha fatto il lavoratore dipendente e poi negli ultimi anni ha fatto l'artigiano o cose di questo genere. Vale sempre la pena di controllare raggiunta l'età di vecchiaia se c'è la condizione per fare la trasformazione. Nel suo caso si è fatta la trasformazione, noi abbiamo controllato, per fortuna lui è venuto al sindacato, abbiamo controllato la pensione, abbiamo visto che era nelle condizioni di avere un beneficio. Il beneficio che ha avuto è di circa 200 euro, anzi ci sono ancora 30-40 euro in più perché adesso si può fare il supplemento, perché quegli anni di contributi, i 3 anni di contributi nel commercio adesso possono essere aggiunti alla pensione da lavoratore dipendente e quindi lui avrà questo beneficio. Lui ha detto che ha preso 13 mila euro netti, la differenza era quasi 20 mila euro. euro lordi, i 13 mila euro sono quelli netti che ha avuto. Quindi 20 mila euro sostanzialmente, siccome si ragiona sempre se i benedetti lordi, mamma non ne cosa più, però netti vengono 13 mila. Lui naturalmente deve fare il regalo, pensa a quello che ha messo in tasca, ma però il lordo nel calcolo che è stato fatto dai 5 anni era quasi 20 mila euro. Perché poi facendo un piccolo ragionamento, che fa un po' a rabbrividire, 20 mila euro che recuperi, recuperi, su cui ci paghi le tasse. Su cui è fra l'altro, certo perché quelli di recuperi, le prendi in ritardo e comunque vieni tassato, devi lasciato l'aliquota media, quindi il 23%. Purtroppo sì sì, perché come sapete i pensionati le tasse le pagano tutti, perché no? No no, ma che sia giusto pagare le tasse, e che a un certo punto fai il calcolo netto per chi mi prendi in giro. Comunque 13 mila euro, lei dice giustamente, non è l'unico caso, quello dice ogni sede territoriale. In ogni sede territoriale, noi qui siamo già in un campo diverso dai diritti inespressi, perché i diritti inespressi sono dei diritti, le maggiorazioni, le cose magari poi ne parliamo. Qui invece c'è proprio un ricalcolo della pensione sulla base della contribuzione versata, che può essere in alcuni casi rifatta e quindi dare, per esempio, noi troviamo oltre a queste condizioni di alcuni anni di lavoro fatto nel settore artigianale o nel commercio. Ok, spieghiamo bene, allora vediamo anche le slide di supporto. Maggiorazione sociale si chiama questa, vero? No, questa è il ricalcolo della pensione, invece la maggiorazione sociale è quella che è legata alle pensioni più basse, che hanno una condizione di avere una pensione attorno ai 500-513 euro. In relazione all'età c'è la possibilità di chiedere una maggiorazione sociale se non si hanno dei redditi ulteriori. A 60 anni c'è la possibilità di chiedere, sono 25 mila euro, poi a 70 anni c'è un ulteriore incremento, si arriva fino a 125 euro di maggiorazione sociale legata alla condizione di reddito personale o coniugale. Ecco, qui dice, vengono considerati tutti i redditi conseguiti dai pensionati e dal coniuge, giusto? Sì, c'è il coniuge, anche vengono considerati i redditi del coniuge. Però sono esclusi? Sono esclusi, certo, certo. La casa di abitazione? La casa di abitazione, che a questi fini non fa reddito. Perfetto, la pensione di guerra? La pensione di guerra, eventuali altre competenze e in particolare i trattamenti di famiglia, l'indenità di accompagnamento o altre indenità similiari. Quindi queste vengono tolte? Sono tolte da reddito, non sono considerate redditi. Una cosa, perché magari uno dice che la casa di proprietà non rientra, commette questo errore, attenzione. Invece in questo caso non fa reddito e quindi si fa riferimento solo ai redditi che può essere la pensione e nel caso dei pensionati può essere se ha una seconda casa oppure se ha altri redditi ma non la casa, non l'accompagnatoria eventuale e altre prestazioni di questo genere. Vediamo un po' anche gli importi sulla base dell'età. Allora, gli importi, come dicevo, il primo step è a 60 anni. Ecco, va considerato anche questo, che i 60 anni possono essere addirittura anticipati, l'aumento della maggiorazione sociale, se quel pensionato ha un certo livello di invalidità oppure ha versato dei contributi, magari ha versato, succede spesso, le donne, queste prestazioni che hanno le pensioni più basse, magari hanno versato 10-15 anni di contributi e quindi questo consente di anticipare, anziché ai 60 anni, ai 58, ai 56, ai 60 anni. Quindi c'è un aumento ai 60 anni di 25 euro mensili, poi ai 65 si va a 82 euro mensili e si passa poi dai 75 anni a 92 euro, quasi 93 euro e si arriva fino a 125 euro di incremento, se non si superano i livelli di reddito, di incremento della pensione. Per cui la pensione da 513, che è la pensione minima, arriva a 637 euro. Non è male, assolutamente. No, infatti noi abbiamo... Convidiamo anche la slide che parla degli incrementi di questa maggiorazione sociale. Certo, sì, 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 eccoli qua, ci sono riepilogati e c'è questa evoluzione che con l'età, anche qui, se un pensionato l'ha chiesto a 60 anni, non è automatico che a 65 anni passa da 25 a 82 euro. No, lo devi richiedere un'altra volta. Va richiesto, cioè è sconvolgente, dovete chiedere tutto, tutto. Noi ci accorgiamo, quando facciamo il controllo, che ha superato l'età o nel frattempo ha avuto un'invalidità, magari parziale, eccetera, non ha fatto la richiesta e continua a essere pagato con la vecchia prestazione di maggiorazione sociale. Allora, per semplicizzare, esatto, per semplicizzare, perché non è semplice, per voi lo so che c'è. Se uno ha una pensione sociale, giusto? Sì, sì. È meglio che nella vassidia faccia dare un'occhiata? Assolutamente, se noi insistiamo in particolare per, poi ritorniamo a caso di prima, ma in particolare per le pensioni basse, le pensioni che sono al di sotto dei 600-700 euro, conviene sempre fare un controllo, perché ci sono, su quelle pensioni, ci sono molte prestazioni aggiuntive e sono tutte prestazioni aggiuntive fatte solo su domanda, non vengono attribuite se non c'è la domanda da parte dell'interessato e sono moltissimi i casi, purtroppo, che adesso, in questo periodo, in questo periodo, ormai da anni, l'Inps non comunica più niente a casa al pensionato, le persone anziane, quindi, non lo sanno, anche se hanno vicino qualche persona, qualche figlio, eccetera, che possa vedere, ma non arriva niente, quindi non sono nelle condizioni di capire che possono aver diritto. Per questo noi insistiamo, passate in una delle nostre sedi dei sindacati, dei patronati, e fatevi controllare la pensione, perché sicuramente, dalla nostra esperienza, quasi una pensione, ogni tre, una pensione, ogni quattro di quelle basse, hanno dei diritti inespressi. Sono percentuali altissimi. Sono altissimi. Assolutamente sì. Tornando al caso del signore, io l'avevo interrotta, perché mi sembrava che era il ricalcolo che veniva fatto della pensione. Sì, quello era il ricalcolo della pensione, in quel caso, e in tutti i casi, quindi lì non siamo proprio nel settore, nell'area che noi diciamo dei diritti inespressi, perché non è legata al reddito, eccetera, quindi lì c'è proprio un problema di contribuzione e di ricalcolo della pensione e verifica della pensione. Per esempio, in questo caso abbiamo visto due o tre anni, alcuni anni da artigiano o da commerciante possono dare questo risultato, ma ci sono anche, nel calcolo della pensione, l'Inps avrebbe l'obbligo se uno ha fatto della mobilità, della cassa integrazione negli ultimi anni, spesso è successo nelle fasi di ristrutturazione, eccetera, l'Inps aveva l'obbligo di sterilizzare quegli anni o quei contributi che erano più bassi, che potevano abbassare la pensione e doveva fare i due calcoli e dare la condizione di miglior favore al pensionato. Molto spesso questa scelta di dare la condizione di miglior favore al pensionato non è stata fatta dall'Inps, quindi bisogna controllare il calcolo della pensione per vedere proprio se nella attribuzione della pensione e nella considerazione dei contributi che sono stati versati, sono state considerate le condizioni di miglior favore per il pensionato, perché questa è una norma che abbiamo conquistato e spesso non viene applicata e purtroppo nei controlli che facciamo troviamo anche dei risultati molto eclatanti, noi recentemente c'era un errore materiale secondo noi che è stato commesso dall'Inps, un dipendente comunale quindi anche nel settore pubblico, non nel settore privato, quindi sono tutti i settori, non era stata attribuita nella base di calcolo della pensione la quota di premio di indennità che veniva considerata, abbiamo rifatto il calcolo e ha avuto un aumento della pensione di 330 euro e quasi 33 mila euro di lordo, naturalmente poi sono diventati 28 eccetera, ma però ha avuto la ricostruzione della pensione dall'origine perché in questo caso se c'è un errore nel calcolo originario della pensione si può chiedere anche il periodo arretrato e la ricostituzione della pensione completa con il calcolo più favorevole. Perfetto, andiamo adesso ad altre situazioni, l'integrazione al trattamento minimo, ovvero eccola qua. Ecco, allora, le pensioni vengono calcolate sulla base dei contributi e danno un certo risultato, se la pensione che spetta al pensionato è inferiore alla pensione minima che per quest'anno è 513 euro, quindi mettiamo 480 euro, quel pensionato può avere un'integrazione al minimo, quindi fino a raggiungere i 513 euro se non ha un reddito proprio superiore a 13 mila euro. Anche qui non si considera la casa di abitazione, non si considera il TFR, alcune cose si considerano solo i redditi quelli soggetti a IRPEF. Se è coniugato il limite entro il quale va considerato anche il reddito del coniuge, ma il limite diventa 26.800 euro all'incirca. Quindi bisogna sempre fare una verifica e anche qui purtroppo non viene attribuita automaticamente, ma viene attribuita solo a domanda perché tu devi dimostrare che hai un reddito inferiore a 13 mila euro e quindi la pensione minima sono 6 mila e rotti euro, quindi vuol dire che non hai nessun altro reddito oppure hai 2, 3, 5 mila euro di altri redditi, però ti spetta comunque la integrazione al minimo. Andiamo alla slide successiva, come funziona sostanzialmente? Certo, certo. Mamma mia, non sono cose semplici, sono complicate. No, no, l'integrazione al minimo è, appunto come dicevo, una volta calcolato la pensione sulla base dei contributi c'è questa possibilità che ti fa raggiungere i 513 euro che è la pensione minima, adesso a gennaio ammetterà di qualche euro perché con la scala mobile ci sarà un piccolo... No, non c'è la scala mobile. No, non c'è la scala mobile, diciamo, il meccanismo di rivalutazione è molto discusso, sapete che nelle rivendicazioni che noi facciamo c'è la richiesta di ripristinare un meccanismo molto più... La gratificazione è stata di un euro, state buone, di un euro, sì, sì, infatti è uno dei motivi per cui il 16 novembre abbiamo fatto la manifestazione a Roma e stiamo organizzando anche altre iniziative. Quindi se io ho la pensione che mi viene attribuita che è inferiore ai 513 euro, posso avere fino a raggiungere i 513 euro se ho un reddito mio personale inferiore a 13.336 euro e se ho il coniuge inferiore a 26.675 euro. Quindi se sommando le due pensioni, la pensione del marito e la pensione del coniuge, se non si raggiungono i 26.000 euro si ha diritto alla integrazione fino a raggiungere i 513 euro. Anche un euro in più fa saltare tutto. Eh certo, sì, se si supera uno dei due o i 13.300 o i 26.000 con il coniuge fa saltare questo diritto. Questo sistema. Questo sistema. Vediamo quindi la slide successiva che un po' riassume la situazione. Ecco qua, sì. Riassume la situazione. Sì, infatti qua c'è anche da dire che c'è una diversità fra le pensioni prima del 1994 e le pensioni del 1994 e quelle dopo il 1994 che è stata la riforma Amato e poi Dini che hanno determinato questa condizione. Comunque generalmente, come dicevo prima, il reddito a cui fa riferimento individuale è 13.300 euro, quello coniugale è 26.676 euro. Questa è la situazione. È la cosa, esatto. Allora, in buona sostanza, tirando un po' una riga perché anche in questi aspetti qui, che cosa ne emerge? In queste situazioni versano molti pensionati? Sì, noi abbiamo, per esempio, noi abbiamo 35.000-36.000 iscritti nella provincia di Venezia. C'è l'area metropolitana? L'area metropolitana di tutta la provincia di Venezia. Il 50% dei nostri iscritti, quindi 18.000 pensionati, sono al di sotto dei 750 euro mensili di pensione. Quindi diciamo che 18.000 persone è bene che si facciano dare una malcontrollata. E anche quelli che sono un po' sopra è bene che fatti perché poi entra in gioco la 14esima mensilità, entra in gioco gli assegni. Sono entra in gioco talmente tanti parametri, tante cose che bisogna chiedere, che un cristiano non può sapere. Infatti noi ci rendiamo conto, la traffichiamo tutti i giorni, ma anche per noi spesso ci sono delle situazioni talmente complicate perché si incrociano varie normative, eccetera. e quindi però fare un controllo è sempre utile. È sempre utile e noi vediamo che chi viene da noi e poi ottiene dei risultati sono contenti e poi fanno anche il passaparola perché giustamente se ci sono dei diritti, questi diritti dobbiamo aiutare a fare in modo che le persone li abbiano concretamente e li fruiscano concretamente. Assolutamente. E poi magari qualche soldino in più, stiamo parlando di 10.000, 13.000, una è la vera volta che si prende la caldaia se la cambia, quindi quei lavori anche domestici che l'antipensionato non riescono a fare. Certo, perché siamo sempre con pensioni che sono tiratissime e se arriva una boccata di ossigeno di questo tipo aiuta a risolvere qualche problema che magari è stato rimandato nel tempo e che invece ha l'occasione di poterlo risolvere. Grazie mille Pier Giorgio Carrer della città metropolitana di Venezia dello Spicigiel. Grazie a voi di averci seguito. Ricordatevi, fatevi controllare questa benedetta pensione perché si scoprono sempre delle novità e non è possibile tener conto di tutto, perché a meno che uno non sia un commercialista in pensione, però in questo caso è una situazione diversa, è bene, ma si dà una controllata. Pubblicità, poi ritorniamo insieme con l'approfondimento in studio. Grazie ancora. Grazie.